Ragazzi video velocissimo, non faccio manco l'into per far prima per chiedervi di passare dal link in descrizione per votare nel contest di tutto il mercato web Il mio amico di nome è Giacomo Sinega, ragazzi tanto aprite il link, vedete tutto, mettete nome e cognome, forse l'email, si mettete l'email Votate, vi arriverà un'email di conferma, potrebbe finire nella cartella Sparma ragazzi ma è tutta roba tranquilla, non vi preoccupate Aprite, confermate, è finito ragazzi, vi credo soltanto questo, un piccolo favore Ah, approfitto anche per salutare il mio amico Alessandro Caldera, ciao Bomber